amici di breaking pop di ultimo ho deciso di farmi un super regalo avete presente i cabinati arcade che si trovavano nelle storie giochi degli anni 80 e 90 beh ho pensato perché non averne uno tutto per me e allora così ho fatto mi sono rivolta ai professionisti nel mio caso iva arriva ed eccolo qua il mio cabinato nuovo fiammante vado subito iniziare col mio gioco preferito wonder boy ed ora passiamo un altro gioco che amo in maniera viscerale vale a dire quello di sailor moon selezioniamo la nostra combattente io prenderei prenderei la sailor mars eccolo qua allora vediamo se funziona tutto corsa pugno salto e poi qui c'è la mossa speciale ve lo fate vedere più o meno tutto giusto per darvi un'idea ma se premiamo questo aspettate un attimo eccolo qua c'è il cristallo il cristallo magico può fare una bellissima animazione la sailor dice qualche cosa e li battiamo tutti ovviamente poi voi potete scegliere il gioco che preferite in questo caso qui ci aspetta metal slug anche perché funziona con schede jamma e cartucce mvs insomma voi la scelta io mi rimetto a giocare ciao